Dopo 15 anni il nuovo piano regolatore generale, il nuovo depuratore inaugurato nei giorni scorsi, la nuova piazza del golf bar, il recupero di due aree strategiche nel tessuto urbano cittadino, Costa Verde ed Ex-Adam, qualità della vita migliorata, il porta a porta finalmente pronto a decollo, gli importanti riconoscimenti delle due vele del touring legambiente per la prima volta e la bandiera blu della FEE su tutto il litorale. Sono alcuni dei risultati, i più eclatanti tra i tanti raggiunti da Francesco Mastromauro, da un anno sindaco di Giulianovo. Sono la dimostrazione che i miei sono impegni da mantenere e non per raccogliere facile consenso elettorale, commenta oggi in conferenza stampa. Bene la squadra che ha voglia di lavorare ricorda. In questo anno la mia maggioranza ha lavorato tanto, i consiglieri, gli assessori, c'è tanto da migliorare, sicuramente lo faremo tutti insieme, io per primo. Ma devo ringraziare l'atteggiamento costruttivo che hanno avuto alcuni consiglieri della cosiddetta opposizione, parlo di Gianfranco Francioni e Domenico Di Carlo, che in estrema onestà intellettuale e con pragmatismo hanno dato il loro contributo per la crescita della città. Spero che questo comportamento virtuoso e non strumentale venga mutuato anche dagli altri consiglieri di opposizione. Il suo progetto si chiama Giulianova 2020 e si è partiti con il passo giusto, ben oltre le aspettative.